Ecco lì, abbiamo la testa a Balboni. Siamo alla seconda curva, ancora a 20.000 che fa l'andatura di testa del gruppo, incendito da Ungaross e ancora Uraganorosco. C'è un filo di dentro Ungaross e Uraganorosco e avanti Ungaross. Ancora questa testa tra Ungaross e Ventimiglia e ha ripreso la testa a Ventimiglia. Non lo so, mi sa che ce l'ha fatta Betti. Non lo so, mi sa che l'ha fatta Betti.